Sì ragazzi bentornati sul mio canale oggi voglio fare una cosa un po' diversa dal solito e voglio farvi vedere la mia collezione di miniature. Et voilà ve la faccio vedere un po' da lontano perché sono davvero tante però ci possiamo anche avvicinare. Questo è il mio scaffale con tutte le miniature che ho. Qui ho un po' di elementi scenici questi li ho presi mentre una buona parte di quelli che ho sopra li ho fatti io. Qui ci sono anche alcuni pezzi non dipinti e materiali vari. Poi ho tutta la fila dei re dei sepolcheri di Camry che sono questi qua che sono modelli abbastanza vecchiotti. Poi ho degli uomini lucertra che è uno dei miei eserciti preferiti. Questi invece sono tutti i nuovi modelli che non ho ancora finito di dipingere comprese le handless pell che sono queste qua. Qui ho un po' di cara drone overlords ovvero i nuovi nani tecnologici del futuro diciamo che sono questi qui. Anche la loro navicella. Qui ho un po' di stormcast che si trovano nei kit base quelli classici e un altro po' di uomini lucertra. Poi si passa un filino di caos e dei silvanet. Silvanet ne ho abbastanza. Qui ho miniature miste che dopo vi farò vedere. Questi non sono ancora dipinti. Qui ho un po' di caos di corn. Qui ho un abbozzo di conti vampiro invece e qui invece ho un po' di nargol. Adesso vi voglio anche far vedere i miei modelli migliori da vicino. Vediamo ora qualche modello che ho fatto. Volevo partire dai paesaggi scenici quindi abbiamo questo qui che è abbastanza vecchiotto. L'ho fatto tempo fa. L'ho realizzato interamente io. L'ho anche dipinto. Quindi ho usato dei pezzetti di balsa per fare la parte sopra. È una sorta di torretta. Ho usato un pezzo di plastica dura per fare la base e poi dopo del polistirolo espanso invece per fare tutta la struttura. Ho tagliato il pilone centrale e poi gli ho attaccato dei pezzi per fare la scalinata. Poi vediamo qualche altra mia realizzazione. Qui ho un bosco che ho realizzato interamente io copiando praticamente quello della cittadel che ho. L'ho sagomato e ho rifatto la base. Quindi gli ho dato la stessa forma sempre su un pezzo di plastica dura. Ho lasciato i buchi per gli alberi. gli ho fatto la texture sopra e poi ho comprato su Amazon del muschio e ho creato gli alberi con della colla a caldo. Quindi tutta la struttura al centro degli alberi è fatta di colla a caldo. Ci ho incollato il muschio ed è venuta la mia forestina. Vediamo adesso qualcosa di un pochino più grande. Questa struttura qua. Vedete rispetto a un modello quanto è grande questa struttura. questa l'ho fatta interamente io da zero. Ho fatto tutto l'arco e ci ho aggiunto anche delle piantine che ho preso in un negozio di piante finte. Vedete queste specie di liane qua. Poi le ho dipinte. Ho fatto tutta una scalinata che è questa dove si può salire e poi ho fatto questa specie di ponte naturale qua sotto. Questo è l'altro lato invece che mostra tutto il passaggio. Ora vediamo invece qualche modello. Questo qui è uno dei miei capi degli uomini lucertola che ho realizzato. Questo è il mio schema di colore quindi io li ho fatti con le scaglie bianche praticamente. Hanno l'armatura tutta dorata come i veri uomini lucertola. La basetta era già fatta quindi io gli ho dato solo la texture ma questo pezzo di roccia faceva già parte del modello. Qui invece abbiamo uno dei miei preferiti che è Chelone che è un soldato di Nargol mutato. Vedete un po' un po' marcio. Gli ho fatto tutti gli aloni verdi del marciume. Gli sono cresciute due chele da granchione. Quindi anche questo è un bel modello. Poi abbiamo qualcosa dei sylvanet che sono gli elfi delle foreste. Questo modello qui è un uomo, una sorta di uomo albero. Ci ho messo un bel po' a farlo, sono sincero, perché se vedete le parti più esterne sono sfumate verso il nero. Anche qua sopra, qui hanno tutte le foglioline che gli crescono addosso. Sempre per stare in tema qui abbiamo un'altra sylvanet, quindi un elfo dei boschi. Questa è una sorta di driade in realtà con la scolopendra viola sulle spalle. Questo modello forse l'avete già visto nel mio altro tutorial dove insegno a fare le basette fatte in questo modo qua. Potete andare a cercare il mio canale, casomai vi lascio anche il link qui sotto in descrizione. finiamo sempre con i sylvanet. Qui abbiamo una driade, quindi un'unità di base molto molto standard. Ho voluto fare il mantello e il fogliame rosso autunno. Poi abbiamo i curno dei sylvanet. Questo modello mi ha richiesto davvero molto tempo. Ve lo faccio vedere. Qui abbiamo due modelli più standard. Questo è uno Stormcast Eternal, è un guerriero dorato del dio Sigmar. Modello abbastanza straightforward, tra virgolette. E poi invece abbiamo un soldato di Khorne, quindi del dio del sangue. Sono questi qua di colore rosso. Qui abbiamo invece un eroe dei cara Drone Overlords. Anche questi modelli sono tra i più difficili in assoluto da dipingere, ve lo sicuro. Perché hanno 10.000 particolari. E soprattutto se non volete fare un patacone dovete un po' distinguere sfumature di oro, di argento, di rame. Quindi è stato veramente impegnativo da fare, però il risultato è stupendo. Poi andiamo avanti con un po' di ogre. Questo qui è un modello che ho fatto molto tempo fa, quindi ha già i suoi anni. La basetta gliel'ho fatta io. Un capo degli ogre abbastanza arrabbiato con un tatuaggio con scritto Fat Pride, non so se si vede, nella ciccia di dietro. Poi invece abbiamo un altro ogre un pochino più recente che è questo qua, che è il macellaio. Invece è il modello più nuovo. L'ho fatto con il grembiule bianco sporco di sangue. Ora passiamo a qualche modello un po' più sostanzioso. Abbiamo il cosiddetto lumacone. Questo modello che ho fatto da poco è di Nargol, quindi dei demoni del marciume. Vedete questo, un tore che cavalca una lumaca gigante. Questa è una miniatura ricca di dettagli, infatti ci ho messo un tot di tempo. C'è anche la piantina carnivora qui sotto. Se vedete è in mano delle cesoie con cui taglia praticamente il giardino marcio di Nargol. Questa qui è la faccia della lumaca, tenerissima. Queste qui sono le increspature dentro la conchiglia e dietro ha un aratro con cui semina i semi marci del dio del fetidume. Ora passiamo a qualche modello un pochino più sostanzioso. Questo qui è il mio Stonehorn, il corno di pietra degli ogre. Se vedete la dimensione rispetto al modello normale è abbastanza più grande. È comunque un modello che ho fatto tempo fa. Mi ha richiesto una quantità di tempo in reale perché gli ho dipinto questi pellettini qui uno per uno. La basetta gliel'ho fatta io, tutto questo pezzo di pietra qua. Vedete che cavalca, c'è un ogre che lo cavalca. Qui c'ha tutti i marchi sulla pelle degli ogre che lo hanno domato. Poi veniamo all'ultimo modello che voglio farvi vedere che è il grande in mondo di Nargol. Vi faccio vedere le dimensioni anche per lui. È abbastanza grosso. La basetta è enorme, non mi sta in mano. E anche questo è un modello che ha un bel po' di dettagli. Qui ci sono le budella che fuoriescono e le ferite un po' marce che gli vengono fuori. Qui addirittura c'è una bocca demoniaca che sbuca dall'avambraccio. Questa qui è la faccia, i corni, le mani. Qui c'è tutta la sua spada piena di teschi. E questi sono un po' i modelli che volevo farvi vedere. Io come al solito vi ringrazio per aver visto il mio video. Se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al mio canale e ci vediamo alla prossima.